5 curiosità su Garten of Bambam 4 Il vero nome del jester è Bitter Giggle e a quanto pare prima di incontrarlo ci segue e ci spia Gran parte degli esperimenti con cui abbiamo a che fare ha una cucitura sulla schiena Il jester può attirare le prede utilizzando un braccio allungabile dalle fattezze di un serpente Durante una visione di Stinger Flynn appare ciucciucciarsi e afferra Bambam Ma quando Nab Nabby si avvicina sembra calmarsi, forse perché sono entrambi i ragni? Jumbo Josh viene afferrato da un tentacolo per poi essere catturato Ma se Stinger Flynn come abbiamo visto è già in trappola Quel tentacolo a chi dovrebbe appartenere?